Ciao a tutti, benvenuti. Questo breve video, questo era un pochino tarda, è per un utente che si denomina Anonimo, il quale mi ha segnalato a YouTube come violazione dei diritti di copyright, quindi ho dovuto togliere i due video in cui cantavo la minna nana dedica a questa bambina e mi ha scritto poi su Facebook, poi mi ha scritto come anonimo su mio blog, presumo sia la stessa persona nel giro di poco, io questi video li ho dovuti togliere e modificare il titolo, togliere i testi delle canzoni e poi li ho comunque ricaricati. Detto questo, sono dispiaciuto di questo comportamento, invito questa persona a cercare di capire dentro di sé come mai ha sentito il bisogno di fare questo gesto pessimo. Questi due video sono una minna nana cantati a una bambina che ha avuto un momento molto difficile, lo ha superato ma l'aspetta comunque un periodo ancora altrettanto difficile. Io non so che parole utilizzare per dirle questo, io ci metto la faccia, preferisco fare questo video e avere un contatto diretto. Se ha dei problemi legati a questi due video, sentiamoci direttamente e chiariamoci, non vedo qual è il problema, io ho cantato con la mia voce su una base nulla di più, per cui non vedo il motivo per cui debba lei agire in questo modo. È stato un gesto veramente, ripeto, dal mio punto di vista, pessimo. Va bene, le mando un saluto e mando un saluto a tutte le persone che mi stanno ascoltando. Ciao a tutti!